ci saranno 16 concorrenti per una sfida epica 50 tiri totali divisi in 10 turni da 5 tiri per ogni turno ci sarà un rigore uno shot out due tiri da fuori aria e uno stop e tiro alla fine del torneo gli otto con il punteggio più alto si scontreranno nelle fasi finali iscrivetevi al canale mettete un like e commentate con il nome del calciatore che volete vedere nei prossimi episodi gli e mei sono tornati con una nuova sfida buona visione bella ragazzi siamo gli e lei finalmente questo si chiama mossa alla dadda non era quella era la mossa del mosquito allora oggi è quel giorno lì il gattone io l'ho visto carico io l'ho visto carico sembra una cazzata sembra una cazzata ma la verità alla gods league sono fatto male ai ginocchi si va bene di lei mamma mia la pantera come stai? bella di lei tutto bene tutto bene oggi c'è davanti sergione oggi è dura il re del football oggi è dura oggi è dura allora che dire lo facciamo entrare? Sergio Don De La Cruz Aleandro Pereira mamma mia mamma mia mamma mia e qui lo dico e qui lo dico colui che spodesterà il prof dal primato nooo io l'ho detto sono tanti 28 sono tanti allora io con sergione e niente chiacchiere anche perchè a blu non piacciono le chiacchiere va avanti così quindi io partirei subito sei caldo sei caldo aduttoni aduttoni un po' un po' partiamo piano ragazzi partiamo piano risparliamo auguri a quanto lo tieni? se riuscissi a tenerla a 25 per me eh tenere sergione a 25 è tanto aroma sarebbe un sogno dai iniziamo allora Simo tu sei il primo che ha fatto questa sfida sei anche l'ultimo com'è possibile che un giocatore come te è penultimo? allora posso dire spezza una dancia a favore di Simo mai allora Simo è l'unico che ha fatto la 5 shot come dovrebbe essere fatta? ovvero da quando batti il rigore senza pausa corri su tutti i palloni cioè dovrebbe essere che arrivi al quinto giro che sei sta invece qua tu ti rilassati aspetta io faccio più i ciri così e poi mi avete detto guarda poi anche sono tranquillo è vero 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 fatti se si lamentavano che tipo sai facevo la corsettina per farlo dal rigore allo shot out capito? ti facevano la corsettina e si lamentavano incredibile vabbè oggi c'è Sergioone quanto farà Sergio? eh Sergio lo batta il prof? si secondo me è sì 28 è il prof secondo me si ma Sergio è forte vediamo vediamo dai Cosa fa? È un movimento quello Sergio quando te la senti? Sergione quando vuoi Ricordati da dove vieni Sergio Don De La Cruz Subito Mamma mia Mamma mia Don De La Cruz Con calma eh Con calma Posso farvi carciare Lo ricordo eh Di caso scemo Mamma mia Ma Sergio sta male Sta male Oh my god No Oddio Oddio così? Non ci capisci Mamma mia Sergio Tu c'hai quel mancino di fico No Ah c'è un mancino di potenzione Di precisione Dile Mamma mia Simo Ma qua mi hanno detto che Ti hanno portato per far raccata palle Ma è vero? No no Simo Questo è il tuo compagno di squadra La merda As Galactico Frattino se vuoi ti compro e ti metto sul comodino Attenzione Sergio Diggielo cazzo Diggielo Pereira Che sarei gli all star Il Sergione Mamma mia Che freddezza Oddio Oddio Va bene Va bene Va bene Va bene Sergione Questi gol Sergio Out Paro Non è gol Attenzione Come diceva il nostro caro amico Attenzione Ultimo Sergione Per il 50% Sergione Sergione 50% Buono Anche perché adesso si è ancora un po' freddo Andiamo a riscaldare un po' gli aduttori Il maestro si è offeso che non sei andato nella maestro camma Scusa No Perché sono già faticato No No La maestro camma Adesso vado Adesso vado Prossimo giro Una tappa dalla maestro Perché non può venire che è infortunato Sono tutti infortunati qua Non siamo peggiti di me Allora adesso hai fatto 5 Nel prossimo quanto fai? È per forza 50% Devi fare più del prof Vabbè Intanto ci riscaldiamo Poi vediamo Ressuperà la fine di Sergione Dai Dai Sergione Primo giro 50% è tenuto giusto? Eh sì Dobbiamo fare qualcosa di più Però ancora siamo freddi Vabbè esatto Se è ancora freddo Vediamo di fare qualcosa in positivo Pian piano Come l'hai visto Dile? Dile è molto forte Sappiamo Vediamo di cercare di scaldarlo Se arrivo a 28 Faccio fare un video con Alessia Lanzo Allora se arrivo a 28 Il video con Alessia Lanzo Dio Franco Alessia Lanzo Vabbè Ma posso venire anch'io Simo? Posso venire anch'io? Sì certo Grazie Va bene allora ci impegniamo Don Delacri Mamma mia Che freddezza Oh Questa è la Campolung Guarda Don Non c'è una palla così È devastante Sì Sai cosa ha Sergio In più di tutti gli altri Una freddezza Sottoporto A te Non c'è una piazza Don Ma che fa? Cruz Ma Oh mio Dio Oh mio Dio Su quei palloni lì Questo è la Campolung Qua facevo meglio Quando la palla Rinbalza così Sergio Che è successo qua? Niente dai Stiamo Provando a fare il meglio Ma Troppo Eh ma è una trivela un po' matta Non da te Eh sì vabbè Quella è la quaresima Mi hanno chiesto Ma Troppo non è andata bene Però lui è portoghese Tu sei brasiliano Eh fatti L'abbiamo migliorato Dai dai Vai Sergione Sette su quindici Mamma mia Andiamo Mamma mia O che vamos Oh mio Dio Don Delacri Oh mio Dio Oddio Senta questa Madonna Oddio Vai Sergione Oh la la Ultimo per Sergione Per tenere il 50% Lo tiene Lo tiene Aveva detto 5 Ha fatto 5 10 su 20 50% Avevi detto 50% La prossima 6 6 6 Proviamo Proviamo Dai Oh più di 5 Devi figurare il professore Confido il mio compagno di squadra Il professore adesso è lì Che si mette i capelli Ma la verità è Fì che sta difando per te O spera che fai meno di lui No Ti va per me Io mi fido dei miei compagni di squadra Che bella l'amicizia No come quelli di Ordi Siamo squadra No Siamo un bel team Siamo un bel team ragazzi Ah quindi Già gli spero per noi Ah no Sergione Davanti c'è un gran portiere Dile tu son parare a rigore Aspetta ma dici quello con la stampella o l'altro? No vabbè Quello con la stampella che aveva un portiere No 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 Allora No Che è l'altro Sapete O saputo che Penguin L'ha pagato solo per giocare ai Golden Steak Non può giocare più Certo ma è normale Quindi era finzione È un'esclusiva questa È un'esclusiva proprio Esclusiva Penguin Si vada a sedere Bile Accendiamo un po' questa sfida Vamos Dai Forza Finito il secondo giro 50% Sergio Tu dire sui rigori Va bene Pensavo meglio sui rigori Eh oh Ci state Video sbagliato No 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 Va bene con Sergio Il cliente di fare i rigori è Sergio Vabbè oh Comunque anche lo shout out Te lo sta tirando bene È importante fare quelli Che poi il resto da fuori aria Con gli adottori così è difficile Se fai quelli son 20 Eh sì vediamo Vediamo Proviamo a fare il meglio Dai eh Tu intanto Sergio vai Dile rimani qua un attimo Per ora nei shout out Il più forte che abbia mai Dire Mi salta sempre Adesso Dimmelo qua nella campo Questo rigore Dove pensi te lo tira In croce Quindi alla sinistra In croce Quindi tu dove ti butti Non ti butti Non ti butti Non mi butto Sto fia Fia come va va Cerco di paraglielo Però sarà difficile Su 10 Quanti speri di parargli Ma io sempre due Rimango umile Due ok Dai Sergio Cruz Oddio Cruz Pereira Puntadile Qui ci ha messo un po' di più Qui ci ha messo un po' di più Alla fratino Ah Mi hai detto Guarda hai due secondi Poi fostrò la palla e calciare Mi hai detto Guarda sono due parole Brugli In realtà è così In realtà Mi dici così Io non ti glielo Ma in realtà Tutti dovrebbero correre Non è scesa Don della Cruz Palo Palo Va bene Palo non è gol Attenzione Sto a 12 Sergio Cruz Pereira 13 Vai dal maestro Vai dal maestro Un po' così così Questo giro Non è facile Forse è forte Adesso più che altro Quella fuori ha Dobbiamo cercare di disegnare Vediamo Dai dai Però secondo me sta ingranando Piano 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 Mamma mia La bomba Alla Lucone Centrale Vola 15 Sta carburando Tranquillo eh Sergio Sergione Avevi detto 6 Voglio 6 È un diesel 45 anni per Sergio Dile Pergio Attenzione Don Cruz Eccolo E sei l'ha fatto Può fare 7 Può fare 7 Don Attenzione De la Cruz Pereira 17 È un diesel Alzato l'asticella 17 Vediamo Ancora mancano Un po' di tiri Quindi Ti mancano 20 tiri Devi fare 12 12 su 20 Per superare il professore Basta fare sempre 3 Ok E super il professore Ok va bene Proviamo Quindi adesso cosa fai Ancora 7 6 va bene 6 va bene 6 va bene E io ci sto mettendo Tutto me stesso Ho un denio Forte Il rigore Che devo fare Io c'è un paro di rigore Non te ne ha preso Eh ma Vabbè Magari Sto parando tutto da fuori Il rigore non riesce a parare oggi Dile tu lo devi tenere sotto i 25 Ci provo Il mio intervento Sergione Tu devi superare il professore Eh proviamo Che da troppo tempo l'imbetta Proviamo proviamo Non sarà facile che dili veramente Forte No proviamo Dottore Auguri Dile Dai 17 Noo Oddio Mamma mia Che giocatore Grazie alla gott league Devo dire Sono più allenati Tutti Io l'unico In differenza tua Sergio prova a scartare il portiere Eh grazie Oddio Perché ha tempo Sergio Capisci la situazione Sergio Cruz Mamma paradile Deve fare tre Sergio Che bello E' bonita E' buona E' buona Ecco qua il mio Sergio 20 20 Per Cruz Pereira Sergio A meno 8 dal prof Proviamo Proviamo Non è facile ma E con un rigore sudato Un pochino Sì sì Infatti ha fatto una grossa parata Fortunata Fortuna che è entrato Ti vedo un po' Sono già cotto Vero No no Non è vero E' quella l'età Che sta arrivando No però io voglio correre Tutto Stai facendo Tutto serio E quindi è giusto Eh vabbè Proviamo Dai 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 Aspetta Sergio Aspetta Adesso Il rigore Dove glielo tiri Dimmi Dimmi dove glielo tiri So che c'è uno che guarda Sempre fino all'ultimo Però Ti sto calciando forte Perché Se no non entra Entra Non penso proprio Sergio Cruz E' a 21 E' a 21 Il don Edile per terra E' ancora lì E' 22 Ha preso E' un diesel 22 Attenzione Mi ha preso Con 10 tiri in meno Mi ha preso Con 10 tiri in meno E' con 20 minuti in più Scusate Vieni 22 22 Hai già Hai preso Crispo Sì mo Con 10 tiri in meno Però Aspetta aspetta Però lui ha corso Lui ha corso Io sto facendo E ho piano Io ho corso Con l'aduttore E' fatto bene Cioè quindi Lui ha fatto quella vera Io sto facendo quella Con calma Free Crispo C'aveva l'aduttore Fatto bene Dunque Serginio Oh Meno 7 dal professore Non esiste che fai 5 E tieni Il professore Io ci credo Diamo tutto Diamo tutto Lo supera o non lo supera? Lui è caldissimo Secondo me Sto venendo molto molto caldo E l'aduttore puoi anche perderlo Basta che superi il professore Tanto Natale non serve Vediamo Oh tanto abbiamo tutto il tempo del mondo Non è un problema Infatti giochiamo solo il 12 Oh giro Ce la fa o non ce la fa Ce la fa Ce la fa Fa 5 su 10 Non ce la fa Secondo me fa 7 su 10 Precisi Proprio più Secondo me non ce la fa Impossibile No Basta E allora andiamo 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 No Stirato ma stirato in che senso? Sto stirato un po' di addotto Ah Allora Sergio Devi farne 7 per superare il prof Ok Dire ha detto che Impossibile Impossibile Però non lo so Proviamo È tutto da vedere Vediamo all'ultimo Vediamo all'ultimo Te cosa dici ce la fai o no? Secondo me no Però proviamo Ma come sei pessimista È sempre Ma come sempre Mai mettere troppo aspettativa Ma devi sempre guardare Devi sempre guardare il bicchiere Mezzo pieno Secondo me Non ti preoccupare Noi facciamo sempre il massimo Per i ragazzi Dai 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 Maestro No se puoi mi farei una dichiarazione Vai 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 Sei troppo vicino Provo a dire Mi stai mettendo pressione No volevo dire Se supera il prof Mi faccio fare un autografo Da Sergio Ruiz E Alejandro Pereira Un autografo? No no ti fai biondo Se supera il prof Ti fai biondo No 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 Come no? Già sono brutto così Biondo non va bene Biondo schermestri bene No no Un autografo? Eh va bene No 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 Ma un autografo dove? No no Sui guanti Sui guanti Almeno Bene oh Me li marca per bene Almeno prendo qualcosa Però Sergio adoro il più forte Che abbia mai incontrato Come calcio Una facilità incredibile Calcio veramente forte Cioè come fai a prendergli Quando uno tira così? No ma Cioè è difficile I rigori soprattutto si vede che calcia diversamente dagli altri O fai il miracolo o è difficile che la prendi Giocatore di livello Sul rigore c'eri pro eh Sul rigore di prima C'eri ma è tirato veramente forte quindi ti ha buccato Ci sta ci sta Non si può essere sempre di le prime in ogni video Dai di le ultime Comunque sono con Mary Prime eh Pazzesco Sei rigori se il shootout ha parato Ma perché ti c'è Ti vuole far soffrire Simo Però a me bastavano due rigori Due shootout in più di un sant'erro sopra il prof Veramente E dire ha detto no Don della cruz Meno 7 da professore Mamma mia Questo è imparabile eh Il don Il don Si sta già lamentando Eh no Non ci ha messo 45 secondi Vabbè 5 ci sta Eh a me non mi ha mandato così Non ho detto che deve essere Sergio 24 Come il fiche Vai Sergio 25 Come il moschito E mi duele dirlo Meno uno da campolunghi e dose No Eh vabbè da Sergio Da Sergio ci sta Sergio Sergio Palo Palo Non è gol Attenzione Per il 26 Mamma mia Dalla palla Don Cruz Serena Eh ragazzi Applausi applausi Quei livello Esagerato Che giocatore Ma meno due dal professore Ma lo mangi Sergio ma che giro hai fatto Eh un giro fortunato Adesso Meno due dal prof Avevi detto che era impossibile Ma sta diventando possibile Eh portate a fare due Poi Se fare terzo Meno ancora Dai vediamo Dai sono sicuro che fai anche tre Meno due dal professore Meno tre dal primato Non sbaglio Sergio Non ci credo 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 Mamma mia Mamma mia Ma già parigi Come professore Come professore Sergione Dile Spreca Attenzione Oh Una devi farne Oddio No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Il professore Liga 3 Effettiva pazzesca Oh Sergione Confido a te Appracciamoci tutti Come le freccette Sergio Cruz Pereira 29 29 29 29 29 29 Il professore Ma che roba è Ma questo è il professore No No Riespegge Proprio Allora Voi Manda un messaggio al professore Di qualcosa Vabbè, il professore è fortissimo, cosa devo dire? Cioè, io sono stato fortunato. Non ce la fa. Da una parte abbiamo il giocatore più forte e lui l'uomo più umile al mondo. Umile, no, però non attacco nessuno, ragazzi. Ha fatto il record a fa... Io stai, io stai. Io contavo lui, infatti, l'ho detto subito, eh. Super prof. L'ho frecciatina. Lui l'ha detto, qualche secondo in meno non facevi più di lui. Ma sicuramente, ci vuole un po' di calma quando hai una certa età, quindi... Sono un ex calciatore ormai. Mi chiedete a Crispo. Infatti, Crispo, uno contro uno, non faccio più di lui. Oh, io ci ho messo un quarto d'ora a fare questo video. Possiamo dar 50 minuti. Eh, non sto scherzando, ridete, ridete. Confermo. Confermo. Crispo solo migliore a rosso. Mamma mia. Sergione. Eh? Chi vorresti vedere che secondo te può superarti? Allora, l'unico campione che mi può superare è uno che ha fatto 2.000 e quante di te stai? No! No! 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. Nanna ti aspettiamo qua. Attenzione! Potrebbe essere un prossimo ospite, Gilbert Thorpe. Oh, noi ti ringraziamo. Grazie a voi dell'invito. Buon po' le vacanze, eh. Vai in Brasile. C'ho l'aereo fra mezz'ora, ragazzi. Che bella vita. Come sono i brasiliani? Qua di fritta facciamo. Qua di fritta facciamo. No. Yeah. Yeah. No. Ciao. No.